Sindaco, dopo tanti anni di abbandono sono tornati i lavori qui nel compressorio dell'ex Maddalena. Cosa succederà? Mi prendo tutto il merito, è stata una cosa molto complicata perché erano privati, con 28 milioni di fallimento, ma anche questa volta ce l'ho fatta, sono partiti i lavori, credo che entro marzo del prossimo anno sarà tutto terminato. Cosa nascerà in quest'area? Ci sarà un centro commerciale, ci sarà una piazza, ci potrebbero essere anche alcuni uffici per il burlo, insomma stiamo trattando alcune varianti, per cui è una cosa molto intelligente, ma soprattutto abbiamo tolto quella specie di pantano maleodorante che riguardava quest'area. Grazie.